Il gruppo scout a GESCCH2 ha celebrato ieri la giornata di apertura dell'anno scout 2023 con un'attività educativa che ha fatto riferimento all'idea di buon cittadino attivo che fortemente caratterizza il metodo educativo dello scoutismo. Essere buon cittadino attivo significa scegliere sempre e comunque per il bene comune, significa rivolgere la propria azione in favore dei più deboli, significa imparare a voler bene alla propria città rispettandola e curandola. La giornata è iniziata all'interno dell'atrio superiore del palazzo municipale di Sciacca dove c'è stato l'intervento dell'assessore alle politiche giovanili Salvatore Mannino il quale ha raccontato ai ragazzi la sua esperienza scout ultradecennale e di come tale esperienza lo abbia spinto a quella passione civica e al desiderio di adoperarsi per il proprio territorio che lo ha portato a svolgere il ruolo pubblico di servizio che oggi ricopre. I ragazzi si sono poi suddivisi in quattro gruppi ciascuno dei quali ha preso il nome di una delle antiche porte di Sciacca e ha avuto affidato una missione civica da svolgere in una zona diversa della città. Sono stati chiamati a sviluppare idee proposte sulla propria città così come la desiderano, così come la sognano. Idee proposte poi consegnate nel viale Caduti di Nassiria alla Perriera al vice sindaco Gianluca Fisco e ai assessori Patti e Mannino. Dopo l'incontro con l'amministrazione comunale il pranzo comunitario di scout e familiari la tradizionale cerimonia dei passaggi e infine la Santa Messa celebrata dall'assistente ecclesiastico del gruppo Sciacca 2 Donnino Catanzaro conclusa con la consegna dei mandati di servizio per l'anno scout 2023 ai componenti della comunità capi dello Sciacca 2.